L'estrema destra greca porta in piazza d'Atene 5.000 persone per una marcia antiturca. La manifestazione è stata organizzata per ricordare la controversia di Imia, l'isola contesa per la quale i due paesi arrivarono sull'orlo della guerra nel 1996. Qualche tensione con gli abitanti della capitale, ma il corteo si è sciolto, senza provocare incidenti.